Sì, sì, va bene. Basta la voce, ragazzetto. Ciao ragazzi, benvenuti in questo prossimo video. Oggi sono su un'altra applicazione che non è sempre Minecraft che balle, ma è Maddex. Un gioco che fa incazzare. Si fa incazzare. Un bel giorno. Che cos'è? Aiuto, aiuto, aiuto. Molto interessante. Io devo trovarla. No. Infatti tu... No. Come al solito. Cosa? Ok. Tipo un livello... Cioè, un gioco a tutti a mini-gay. Cioè, a livelli, come devo dire. Ok. Che cavolo è? Devo dire che io già ho giocato a questa applicazione e faccio davvero schifo. Ah! Che culo. Vai, 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 vai. Vai che è più facile di tutto il mondo. Che cavolo è? Ma che cavolo è successo, ragazzi? Beh, no. Ma va bene. Vai! Primo livello fa. Passiamo al secondo livello. Anche la pubblicità a questo gioco. C'è la pubblicità. Sì, perfetto. Oh! Vai, 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 vai. Vai che ce la fai. Quello lì è un laser che distrugge proprio tutto. Ok. Mamma mia che pro. Cos'è questo? Ah, sì, giusto. Ok. Vai. Vai. Ma non sto andando giù senza aprire il laser. Perfetto, 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 perfetto. Facciamo il livello 3 fino al livello 5. E ancora la pubblicità di Amazon. Perfetto. Oh, che cavolo è sta roba? Ah, giusto, i missili. Corri! Che culo. Vai, 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 vai. Vai ancora di qui, di qui, di qui, di qui, di qui. Mamma mia. Cos'è sto roba? Facile. Qui c'è la chiave, giusto? L'ho visto bene. Sì! Madonna. No, 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 demente. Non ho mai visto uno più ebbete di te, lo sai. Da ulteriori tentativi sono ritornato. Ok, qui cos'è? Devo prendere due chiavi e ne ho presa una. Ah, giusto, perché una sta qui. Che demente. Che sono anch'io però, mi ci metto. No? Prendi sta censura di merda. Vai! Ok. Che culo. No! Viva la pubblicità di Amazon. Vai! Ok, devo scendere. Qui sale. Sali. Vai! Sali ancora. Ma che sì che non sono niente di livelli. No! Oddio. Ho visto da un mio amico. Che i prossimi livelli sono davvero impossibili. Proprio impossibile, però impossibile. Corri, corri, corri. Maro! Ecco, mi è tornato. Sono tagliato un po'. Ecco, qui. Ok. Sono tornato. Corri, 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 corri. Ecco, ok. Questa roba, niente. Devo usare tutte cose che fanno saltare. Questa qui è una gelatina che non ho mai capito il senso. Oh. Il mio orologio suona. Sì, perché sono le nove. Giusto? Sì, sono le 21. Cose normali. Oddio, per quanto? Amazon Time. Guarda che devo odiare Amazon per le sue pubblicità. Questo livello l'ho sempre odiato. Una volta ci sono stato un mese per capirlo. Davvero, un mese. Ok, devo far scendere questo. Far andare qui. Poi da qui. Devo. Non lo so. Fare qui. Adesso è sempre aperto. Ok. Una chiave. Adesso. Vorrei fare così. Sì. Hai di nuovo questo Google Play Service. Proprio. Che succede con questo Google Play Service? Ok. Adesso non si muoverà più. Quindi. Prendiamo la chiave e andiamo a fine livello. Dove si finisce il livello? Ah, sveglia. Che culo. E' qui va. Fatto il livello 5. Faccio. Mato A. Ultimo livello. Ma A. Che di voi? Cori, corri, 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 corri. Qui, 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 qui. Sì, vabbè, ma è facile, cavolo. No. Non saltare come nebbete. Oh. Maledetto. Maledetto. Ci riprovo. Voi non sapete quando ho fatto dei tagli, quante pubblicità di Amazon sono uscite proprio. Non me lo ricordo, questa parte. No. Basta. Non ce la faccio più. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. E se potete anche iscrivetevi. Perché io sto scelerando, sto da un quarto d'ora, non riesco a fare un fottuto pezzo. Ora ci trovo l'ultimissima volta. Qui, 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 no. Vabbè ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi se è possibile. Passate da tutte le cose che scrivono in descrizione. E ci vediamo al prossimo video. E quindi ciao.